Sindaco, oltre 9.000 contatti per scaricare l'F24 dal sito del Comune e ovviamente tante altre famiglie che sono andate nei punti organizzati dagli uffici comunali per la stessa operazione. Insomma, sta andando a buon fine questa operazione che permette ai cittadini di poter pagare adesso le nuove somme per la Tares. Ovviamente l'amministrazione complessivamente si scusa per il disguido che è accaduto a causa di un errore nella contabilizzazione a parte dei funzionari. Però credo che la soluzione che è stata ideata per il rimediare per il pagamento della bolletta con la riduzione media dell'11% sia una soluzione che, se come ci auguriamo andrà a buon fine, ciò sta accadendo, consentirà in futuro, ove è stessa, di risparmiare diverse decine di migliaia di euro. Ovviamente si procederà prima con la possibilità, un arco temporale in cui sarà possibile scaricarsi dal sito internet direttamente il modulo per il pagamento delle tasse locali e poi per coloro che non abbiano provveduto con l'invio a casa con l'ulteriore addebito dei costi di spedizione del relativo modulo. Ma utilizzare gli strumenti che la tecnologia consente, anche la diffusione ormai generalizzata di internet e della rete consentono. Credo che se porta dei risparmi per le casse dell'ente, ma anche per le tasche dei cittadini, sono tutte metodologie che vanno perseguite.